Salve amici dal pastore Doug Batchelor. Benvenuti alle nostre domande settimanali sulla Bibbia. Parleremo del tema cosa vuol dire quando la Bibbia dice battezzati per i morti. Ora tutto questo si basa su un versetto che si trova in prima Corinzi capitolo 15 versetto 29 e lasciate che ve lo legga e poi lo analizzeremo e spiegheremo. Altrimenti che faranno quelli che sono battezzati per i morti? Se i morti non risuscitano affatto perché dunque sono essi battezzati per i morti? Ora a causa di questo versetto molte persone si chiedono se qualcuno possa essere battezzato per i morti. Facevo degli incontri di evangelizzazione New Mexico e dopo aver parlato del tema del battesimo un signore è venuto e ha detto fratello Doug credo nella verità e sono interessato a farmi battezzare a far parte della chiesa ma non so se devo essere ribattezzato. Gli ho detto sei stato battezzato per immersione? Mi ha detto sì. 50 volte. Gli ho detto cosa? Ho incontrato gente prima d'ora che era stata battezzata una seconda volta. La Bibbia ci dice in Atti capitolo 19 che ci sono delle persone che erano state battezzate per immersione da Giovanni Battista e battezzate una seconda volta dall'apostolo Paolo e in alcune occasioni ci sono delle persone che magari nella loro vita hanno fatto marcia indietro in più di un'occasione magari sono stati battezzati tre volte ma 50 volte e ho dovuto chiederglielo e mi ha detto ero mormone e sono stato battezzato per tutti i miei parenti morti e questa è stata la prima volta da giovane evangelista che mi sono trovato in questa situazione. Ho pensato davvero raccontami e mi ha detto crediamo nel farci battezzare per i morti e all'epoca ho fatto un piccolo studio che condividerò ora con voi. Questo versetto viene spesso equivocato. Prima di tutto un po' di storia. Nel 1840 i seguaci di Joseph Smith erano preoccupati perché in pratica diceva che i loro insegnamenti erano molto importanti, molto esclusivi e se non si accoglievano quegli insegnamenti non ci si poteva salvare. Gli dicevano e i nostri parenti morti? Allora lui si inventò quest'idea che ci si poteva far battezzare al posto dei parenti morti. Ecco come l'usanza si è diffusa per cui nella chiesa dei santi degli ultimi giorni, i mormoni, si battezzano per i morti. Ma è assolutamente non biblico. Prima di tutto lasciate che vi dia qualche motivazione a riguardo. Si legge in ebrei capitolo 9 versetto 27 e come è stabilito che gli uomini muoiono una sola volta e dopo ciò viene il giudizio. Dopo che si muore il destino è stabilito. Dopo c'è il giudizio. Non dice che si muore e poi magari ci si può salvare o si può essere perduti a seconda se uno riesce a convincere i suoi parenti a farsi battezzare al posto proprio. E probabilmente ora dovrei dirlo. È una cosa sospetta riguardo a questo insegnamento. L'idea che una persona potrebbe pensare beh, vivo per il diavolo e farò in modo che uno dei miei parenti si faccia battezzare al mio posto dopo che sarò morto. Sapete, nulla nella teologia cristiana ortodossa o protestante sostiene questo tipo di ragionamento. In Ezechiele 18-20 questo per me è davvero un versetto fondamentale. Dice, l'anima che pecca morirà. Il figlio non porterà l'iniquità del padre e il padre non porterà l'iniquità del figlio. La giustizia del giusto sarà su di lui. L'empietà dell'empio sarà su di lui. Non si può avere il merito per la giustizia di un altro essere umano. Ci si può salvare solo accettando la giustizia che offre Gesù mentre siamo in vita. Non lo si può fare dopo essere morti. Un'ulteriore prova a sostegno è se guardate Luca 16, versetto 25, di nuovo la parabola di Lazzaro e del ricco. In questa parabola, ma Abramo disse al ricco che era nei guai. Ricordati che tu hai ricevuto i tuoi beni durante la tua vita e Lazzaro similmente i mali. Ora invece egli è consolato e tu soffri. Oltre a tutto ciò, fra noi e voi è posto un grande baratro. La parola posto significa stabilito, messo, non si muove, in modo tale che coloro che vorrebbero da qui passare a voi non possono, così pure nessuno può passare di là a noi. Questo vuol dire che quando si muore il nostro destino è stabilito. L'idea che si possa in qualche modo sfuggire perché un parente viene battezzato al posto nostro dopo la morte non è biblico. Paolo dice in seconda Corienzi 5,10, noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte nel corpo in base a ciò che ha fatto, non in base a quello che i parenti hanno fatto, ma quello che uno ha fatto. Quindi in conclusione devo tornare indietro e dire cosa intende Paolo quando dice battezzati per i morti. Leggetelo semplicemente nel contesto, guardate prima in prima Corienzi capitolo 15 e iniziate col versetto 12. Ora se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come mai alcuni di voi dicono che non c'è la resurrezione dei morti? Tutto il discorso qui di prima Corienzi 15 parla della resurrezione dei morti. Ad alcuni dei Corinzi era stato detto o insegnato che i morti non sarebbero davvero risorti. E Paolo sta controbattendo, ascoltate. Se dunque non c'è la resurrezione dei morti, neppure Cristo è risuscitato. Ma se Cristo non è risuscitato, è dunque vana la nostra predicazione ed è vana anche la vostra fede. Inoltre noi ci troveremo ad essere falsi testimoni di Dio, poiché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha risuscitato Cristo, mentre non l'avrebbe risuscitato se veramente i morti non risuscitano. Paolo dice che saremo tutti bugiardi se diciamo a tutti che Cristo è risorto. Versetto 17, ma se Cristo non è stato risuscitato, vana è la vostra fede. Voi siete ancora nei vostri peccati e anche quelli che dormono in Cristo sono perduti. Se noi speriamo in Cristo solo in questa vita, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Dice che crediamo in una bugia, quindi guardate tutto il tema qui è che è chiaro che i morti risuscitano, altrimenti la nostra fede sarebbe futile. Nel contesto leggete ora il versetto 29. Altrimenti che faranno quelli che sono battezzati per i morti? Se i morti non risuscitano affatto, perché dunque sono essi battezzati per i morti? Alcuni pensano, beh, i corinzi erano battezzati per conto dei morti. I corinzi avevano vari problemi teologici e dicono che forse questo è uno di loro. Ma non penso sia quello che sta succedendo qui, perché Paolo non si prende tempo per correggere quella falsa teologia e non ci sono prove o tracce nella storia che dicono che i corinzi si facevano battezzare per i morti. Quindi qui c'è la chiave segreta, la punteggiatura. I greci non avevano punteggiatura in origine, doveva essere aggiunta dai traduttori. Questo verso è stato mal interpretato. Quindi questo è il modo in cui credo si dovrebbe leggere e molti studiosi sono d'accordo. Questo versetto dovrebbe essere letto con questa punteggiatura corretta. Prima corinzi capitolo 15 versetto 29. Altrimenti, virgola, che faranno quelli che sono battezzati? Punto di domanda. Per i morti, virgola. Se i morti non risuscitano affatto, virgola, perché dunque sono essi battezzati? Punto di domanda. Per i morti? Capite cosa dice Paolo? Lasciate che ve lo legga senza dire la punteggiatura. Altrimenti che faranno quelli che sono battezzati? Per i morti, se i morti non risuscitano affatto. Perché dunque sono essi battezzati? Per i morti? Se ci sono persone che non credono nella risurrezione, perché dovrebbero essere battezzate? Lo dice in modo retorico, con una punta di sarcasmo. Si battezzano per i morti? Perché dicevano che se si muore si rimane morti e non c'è risurrezione. Questo è tutto ciò che dice Paolo. Non costruite mai una teologia su un versetto. La Bibbia dice che ogni parola sarà confermata per la bocca di due o tre testimoni. Quindi, in conclusione, si può avere il merito del battesimo per conto di un'altra persona? Sì. Cosa dite del ladro sulla croce? Sapete, Gesù dice in Marco capitolo 16, chi ha creduto ed è stato battezzato sarà salvato, ma chi non ha creduto sarà condannato. Il ladro sulla croce accettò Gesù nelle ultime ore della sua vita. Ovviamente non è stato battezzato. Come si può essere salvato? Beh, Gesù è stato battezzato, ma non è stato battezzato per i suoi peccati. Cristo è stato battezzato come esempio per voi e per me. È stato battezzato per mostrarci cosa aspettarci. I cieli si sono aperti e la voce di Dio ha detto, questo è il mio diletto figliolo. Cristo non è stato battezzato per i suoi peccati, ma è stato battezzato anche per coloro che non possono essere battezzati. Quindi, amici, una volta che capiamo queste cose, la Bibbia ha perfettamente senso. Dio vi benedica, studieremo ancora insieme la prossima volta. Grazie a tutti.